Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, un nuovo episodio della nostra partita in Total War Warhammer 2 con Quick, Mozzateste e gli Skaven del clan Morse in Imperi Mortali Nello scorso episodio abbiamo fatto un'altra vittoria eroica, ormai è diventato quasi troppo banale farle contro i Vampiri Abbiamo eliminato un altro esercito e siamo alle porte di Numas, dopodiché marcieremo ovviamente contro Chimiri Anche perché abbiamo grossi problemi economici, quindi dobbiamo assolutamente risolverli Allora, c'è un edificio potenziabile, non lo faremo Potrei potenziare questo, che è un po' lasciato a se stesso insomma Qua invece siamo in mezzo ad altre città, potrei farlo Potrei farlo, costa 1500, no, perché puoi avere praticamente due turni di turno a 1000, ma adesso ne ho tre Quindi questa notifica la saltiamo Qua potrei potenziare ad Antiochia Si chiama Antioch, ma io ho cambiato il nome in Antioch, così posso continuare a sbagliare senza sentirmi in colpa No, anche qua stesso discorso, saltiamo sta notifica Non c'è nient'altro da fare, la missione non la faremo Non possiamo muovere più nessuno Appena qua è tutto finito, intanto stiamo cambiando gli editti Si, questo è già quello che preferisco Appena finiamo qua Potrei distruggere quest e fare le mura E poi, se tanto quell'ordine pubblico sta salendo E quando conquisteremo Karak e quando faremo questa tech Dovremmo essere a posto, senza la doppia campana Quindi ne basta solo una, sostanzialmente Quindi l'ordine pubblico non sarà più un problema Anche perché i potenziamenti di questa sono incredibili Cioè qua sala 9, qua 13 Cioè è più del doppio di adesso Una campana sola E qui, come struttura, inizieremo a fare questa qua probabilmente Così possiamo prenderci qualche trete della peste E anche qualche monaco Penso che andremo in questa direzione Questo qua però aumenta davvero di tanto la corruzione degli scaven Questa struttura invece No, potremmo fare anche questa Perché questa struttura comunque la faremo sia qui Che Qua Qua perché? Perché abbiamo fatto questa struttura Praticamente per renderla competitiva Questa linea di edifici qui Vabbè dai ci pensiamo nel prossimo turno direi Questa è la zona più interessante Dovremo seguire anche lui Vediamo un po' che cosa fa Perché se si spinge a sud potrebbe essere un po' un problema Se invece rimane a nord un po' di meno Questo qua abbassa la corruzione vampirica Ho visto che tra le sue abilità è quella che aumenta l'incontaminato di 4 Quindi a noi va assolutamente bene Perché dove non c'è incontaminato non abbiamo l'ordine pubblico più 10 E nel frattempo che faccio salire la corruzione scaven Costruiamo la campana Guerra dichiarata alla mano insanguinata Ok Intrapendenza E' intraprendente il nostro Cancrenoso Ok Ottimo Fantastico Ha eliminato il suo esercito Fantastico Loro purtroppo non ho dentro uno E mi attaccano ancora un'altra volta Allora la facciamo no sta battaglia Perché potrebbe essere una battaglia diversa dalle altre Perché ho il cibo in salita? Ma io ho la Wow Wow Eh Non sono pochi eh In teoria io ho un lanciere ciascuno E dovrebbe bastare Va bene dai combattiamola Male che vada con più 4 Male che vada Perdo delle unità Che significa Che Ho Anche qua c'è una strettoia Quindi utilizziamo questa Avrò meno da pagare Eh Anche se questo qua forse è l'esercito che ci costa meno Cioè quello che ha meno unità costose Allora Hanno pure i rinforzi Ecco Però effettivamente Non ho considerato i rinforzi Che hanno anche tanta fanteria Gioco ad azzardo Vediamo Perché dipenderà tanto dal fatto che Sì È in salita Per fortuna Guardate quanta Vor pietra Che figata Anche là c'è del verde Tutto visto E cos'è quella roba di una struttura nanica distrutta Come giusto che sia d'altronde Anche quella Anche questa è una struttura nanica Poi mi sono sempre chiesto Perché i nani fanno le cose così alte Se loro sono dei tappi Cioè qua dentro non c'è niente Non è che ci sono mille piani No Non c'è dentro niente Va bene Allora iniziamo lo schieramento Allora voi state qua Poi La mappa mi sembra che si stringa in questo punto Ma quindi qua sopra non ci si può camminare O sì Qua C'è sotto è vuoto Comunque le texture qua un po' mancano Un po' strana la faccenda E va bene Allora Questa è la nostra linea di Di lance Ok Linea di lance Non ho più rattischiare No c'è io Li mettiamo Sul lato Davanti Subito dietro Perché l'impatto Poi dovrete subirlo anche voi Eh no Credo che staremo abbastanza compatte così Non è che ci sono molte altre opzioni In questo caso Se riusciamo ad arrivare qua Prima che arrivino loro Utilizziamo la strettoia Vediamo Quanto sono già arrivati Questa volta non siamo in vantaggio nomirico Probabilmente Però abbiamo tre rate del clan Più i suoi Quindi nove rate del clan Che cercheremo di far arrivare Da dietro Se noi riusciamo a sfruttare davvero Questo Questo buco Ci mettiamo tra queste due colonne Di war pietra E basta Mi sono messo In questa posizione Un po' pericolosa Nel senso che stiamo attaccando Potrei avanzare ancora Un ciccinino Un ciccinino Un ciccinino Un ciccinino Poggiere Un ciccinino Un ciccinino Accalament Allora Citano Attra Un ciccinino Aspettiamo se si devono muovere loro Allora voi fate tiro a volontà ma concentratevi su quelli Grazie a tutti Ok pausa perché qua è proprio un'arresta totale Innanzitutto Così Poi mi fai così Iniziamo a far uscire un po' di clan rat Qui così Ottimo Che questi siete riusciti a eliminarli? Ottimo Ora sparate qui Potrei anche farvi fare quello che volete Ok Ok Non sarà facile come le altre hanno un sacco di cavalleria stavolta Ok sparate ora Così mi prendi di più Mamma mia C'è con solo una soffiata lì Li mandiamo in fuga Ok spostati da quella parte Facciamo fuori questi Spingi qua nel mucchio Per questo aspetto ancora un po' Perché è l'ultimo che possiamo usare E Non vorrei usarla nel momento sbagliato Eh non abbiamo abbastanza lanci stavolta Tra l'altro hanno pure due generali Perché non è proprio ottimo Che qua stanno andando bene Questi qua Stanno morendo tutti Perché non posso evitare su questi Allora Carica Bene Come va qua? Renderli inefficaci Ok sul lato qua mi sa che abbiamo avvito Caricate così Sparate nel mucchio Qua concentratevi su di lui Ottimo lavoro Carica questi Dai 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 Ne è rimasto uno solo Puff Carica di qua Forza Stanno scappando E niente qua dobbiamo aspettare Che salga un po' il potere magico Non ne abbiamo più E vabbè Qua ci stanno sfondando Però Non potevamo Aspettarci niente di diverso Quello però è il rispetto E questo qua È un micromante Sì Hanno ancora tre unità di cavalleria Due delle quali sono molto messe bene Sì Sì Sì! Buon appetito! We move, move! Hey, some hurry! That's clan rats! One! Breaking up! This is yes! What's what? I see! Ok. I don't have to escape. All right, go there. Niente buono scarica, ma va bene lo stesso. E qui in mezzo stiamo davvero davvero facendo la differenza. Ora vorrei delle lance impegnate su questo, mentre qui... ...però anche il necromante è stato da morire. Che te però non si è messo troppo bene, eh? Cerchiamo di intercettare questi. Sono usciti un quarto d'ora dopo. Ok, questi cavalli sono morti. Qua chi c'è? C'è più nessuno! Un'altra vittoria eroica? No, non ditemi che è così. Facciamo fuori questi carri qua. Quindi Numas non c'è neanche bisogno di combattere. Vittoria eroica! Boom! Vabbè, sta diventando troppo semplice contro i vampiri. Perché abbiamo capito come fare. Più che altro. C'è questo qua... ...ha eliminato quattro eserciti. Forse questo è il quinto, ma letteralmente... ...c'è non ha vinto le battaglie, ha eliminato gli eserciti interi. E questo era l'esercito più tutta la guarnigione. E questa è stata la battaglia di sicuro la più difficile. Perché avevano sette... ...cavalieri. Non c'è niente da dire, cioè... E non abbiamo perso nessuno. Allora, io mangerei prigionieri. Anche se dovremmo renderne qualcuno schiavo. Dovremmo renderne qualcuno schiavo. No, mangia. Ora, spero che tocchi a me e non ai conti vampiro. No, no, aspettate. Io sono... Che cacchio sto dicendo? Fallimento. Tocchi a me e non tocchi ai orchi. Ma hai già toccato agli orchi. Perché se ora loro mi attaccano e conquistano un mas... ...mi girano i zebedei. E invece sembra che non sarà così. Vediamo se è partito il timer. Sì. Che bravo che sono. Faccio partire anche il timer. Intrapendenza. Allora, dici prima che entrerai in battaglie di intercettamento sotterranei. Cioè, meglio di così si muore. Questo Lord è fondamentale, divino. È il magico super mega overpower. Ho capito, incursione. Allora, lui diventerà immortale. Perché a questo punto stai per diventare un Lord leggendario, amico mio. Cioè, sei troppo forte. Allora, a questo punto... Potenzio di ratte del clan. Cioè, fammi capire. Qui dentro non dovreste avere nessuno. Abbiamo perso un'unità, comunque. E invece hanno un botto di gente. Allora, tieni qua. Comunque, l'importante è che a Numba siamo arrivati prima. Ah, ma perché c'è questo? Non dovrò. Il nostro clan si rinforzano. Uccidio per me, ratkin! Okidoki. Dunque, potremmo eliminare questo. O saltare qua. E così dobbiamo rinforzare anche con Pick. Cosa che francamente non penso serva. Non voglio combatterne un'altra. Però vediamo i ratti ogre. È che io non ho possibilità di sfond... No, posso sfondare le porte con i ratti ogre. Non vorrei che mi facessero un'imboscata a questo e poi lui rimane da solo. Il che sarebbe un bel problema. E a parte che possiamo salire sulle scale. Però senza aprire le porte. Solo tu apri le porte. Quindi quello che ci serve è una riette per fare entrare questi. Ora... Potrei anche mandare qua Quick e attacchiamo questa città in tre. Il problema non si porrebbe. Giusto un rapido giro. Eh qua... Due turni. Qua invece... Grazie alla campana siamo in positivo. Però la repressione militare al prossimo turno se ne va quindi torna a zero. Quindi dovrei portare la campana il più alto possibile. Allora la crescita non è proprio elevata eh. Qua dobbiamo arrivare ad avere questo. Surplus 2. Fra quattro turni possiamo costruire questo e poi potenziamo ancora la campana. D'altronde potrei mettere una campana di là. Cibo. Cibo cibo cibo. Ah ma quella battaglia io non la posso neanche fare. Sei tu che mi stai abbassando l'ordine pubblico come povera che ci penso. Instabilità della provincia 9 per la conquista. Incursione 3. Beh a parte che in teoria si ribelleranno a Numas. Una volta che la conquisterò. In teoria. No allora diciamo la verità qua dovrei attaccare solo che sono stanco non c'è voglia. Quindi vediamo se riesco a fare qualcos'altro nel frattempo. No. Ora. Questo esercito non fa paura a nessuno francamente. E tornerà verso nord. Potrei portare qua Quick. Però forse è meglio tenerlo nel sud. Perché. Insomma. Qua la situazione non è ancora risolta e poi c'è da affondare sta città. Prima di prendere questa decisione vediamo qua come la faccenda. Qua non si sono ancora fatti vedere. Vediamo se riusciamo con questi a. No. Questi secondo me vorrebbero. transito militare alleanza militare ma. Io non gli faccio niente. Tanto li attacchiamo e li tradiamo. Gli unici che possono aver senso di esistere sono gli scaven. No dai non portiamo Quick a nord. No dai non portiamo. No dai non portiamo. No dai non portiamo. No dai non portiamo. Dobbiamo fare questa battaglia. Loro non sono messi bene. Però questa qua. Cioè io l'ho appena distrutta eh. Dovrebbe esserci questo fatto. Va bene. Non utilizzo cibo. Anche se. Uno potremmo usarlo dai. Ah ma devo comunque aspettare un turno. Perché. Loro non me li conta. Quindi un turno lo aspettiamo per forza. Così subiamo un po' di danni ma neanche troppi. Quindi che facciamo con Quick. Perché a questo punto dobbiamo decidere come muoverlo davvero. Allora questi due eserciti distrutto questo possono andare da soli di qua. Quindi o diamo la caccia a questo. O ci mettiamo nella città a sud. Nonostante Quick sia dentro andiamo a meno 6. Dai aspettiamo così. Potenzialmente un edificio disponibile. No. No. Non lo so. Perché qua la decisione non è proprio facile. Perfetto. Stai qua. Abbasso ancora la corruzione del caos. E dai quella che in realtà a me serve l'incontaminato. Perché io sono incontaminato ma ho la mia corruzione. Cioè. È un topo che si mangia la cosa. Crump Estilence. Ho visto che si sta esponendo un botto. Crump Estilence nel sud della... L'Ustria. Vabbè. Avete quindi eliminato il loro esercito? No. Eccolo lì. Perfetto. Quindi ora attacco... Tranquillamente. Numa semi al 100%. Fallimento. Grazie. Fratellanza dei Narchioni. Questi che scappano verso casa. Questi. Oppure. Vediamo se riusciranno a sopravvivere. Hanno reclutato però eh. Sono andati più forti. No. Probabilmente hanno evocato. Non ho reclutato perché... Nello stesso turno. Si. 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 Hanno evocato degli zombie. Si. Allora io mi metto lì per farlo scappare Qua in un turno ci sarà una rivolta Potrebbe essere sia qua che là Però va bene lo stesso Se qua potrebbe essere un pochino più un problema Io penso che ora ci mettiamo ognuno dentro casa sua Allora qua mi dà un vantaggio incredibile Però devo combattere anche questa ragazzi Perché se no qua ci fa perdere metà delle truppe Che ripeto non sarebbe male L'ho visto qualcuno e sono già di livello alto Ecco una cosa che mi manca in questo gioco rispetto ai vecchi Total War È la possibilità di potenziare un'unità Cioè è ovvio che questa sia l'evoluzione di questa Non proprio quello come esempio che ho preso Questa sia l'esempio L'evoluzione di questa qua E quindi devo tenermi queste unità scarse Perché non posso potenziarle Cioè capito Ovviamente è meglio prendere quelli con scudo Che iniziano ad essere già forti Guardate 37 e 27 Se andiamo nell'esercito di Quick Guardate questi 40-45 Cioè non sono molto più forti Sono abbastanza Devastanti anche loro Qua due turni ancora Qua non si muove una foglia quindi Stiamo tranquilli Beh facciamo sta battaglia E poi spero che tu te ne vada un attimo lì Così io posso continuare ad attaccare i narchioni Molto bene Allora Questo qua abbassa il vigore No non voglio che tu sia senza vigore In questo modo dovremmo essere ancora più forti Perché questa modalità di movimento Aumenta la difesa corpo-corpo Quindi vuol dire che Loro adesso hanno questo buff In teoria sono ancora più forti Cioè facciamo questa battaglia L'assedio di Numas Abbiamo un sacco di alleati Perché siamo fuori? E non Ma che senso ha? Mi ha fatto costruire le armi d'assedio E non sto combattendo in città Quindi loro sono usciti Hanno fatto una sortita Vabbè ma loro hanno cavolato sta battaglia Ecco L'ultima parola famosa Quindi quella là è Numas È una bella città Sarà bello distruggerla E loro ora sono qui Sapete cosa vi dico? Allora io prendo questi Che mettiamo qua? Gruppo 2 Con lui qua davanti Questi Mi piace Perché mi tieni la formazione? Chi ti ha detto di tenermi la formazione? Cosa fai? Aiuto Si è spostato tutto Avete visto? Ma perché fai così? Dai Perché sei in formazione? Chi ti ha detto di essere in formazione? Poi hanno tutte le scale Ma non ci sono le mura Niente Mi rimette così Che stufita Siamo qua Aspettiamo i rinforzi Questo qua è la riete Che figo Cioè che senso ha Che ho tutte queste macchine da guerra Inutili Quello lì è Roberto Roderico Sì è una battaglia del cavolo Voglio essere proprio onesto Ma perché me li fa così? C'è qualcosa di strano Perché sta battaglia è come Cioè Siamo Fuori dalla città Non so perché siamo usciti Sono dei pazzi No Ciao Allora Questi tutti nel gruppo 2 Perfetto Poi C'è Grazie a tutti! Faccio vedere che è pazzo Forza Ok vediamoci un po' questi ratti ogre Perché dovrebbero essere tutti diversi Tipo questo qua al posto della mano c'ha questo Quello invece ce l'ha la mano Non so se cambia al secondo di livello Alcuni hanno dei pezzi di war pietra Eccolo qua C'ho una mano war pietrosa Questo qua c'ha Al posto che una palla c'ha un pezzo Questo qua c'ha delle spine che gli escono da dietro Eccolo Ah che bello Sono lance quindi non è proprio il top Questo che abbiamo fatto Continuate Tu perché vuoi morire? Fantastico Fantastico C'è questi da soli stanno ottenendo Che dovrebbero essere più forti contro di lui Sì Sì però non morire Ok No 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 scappa T'ho detto Perché torni a combattere? Passo furioso Va bene Abbiamo visto Qual è il potenziale dei ratti ogre Purtroppo sta battaglia è inutile Cioè Dovevo combattere per qualche motivo Assurdo Date una mano a questi Tu Vai dare una mano a questi Però almeno ha fatto esperienza anche lui Termine la battaglia Abbiamo conquistato una città Non so perché siano usciti Volevo fare un assedio Vabbè Peccato Anche perché Appunto avevamo preparato Cioè attaccavamo il turno prima Avevamo preparato un Una riete anche Però gli orchi selvaggi Avendo eliminato Quell'altro esercito Forse Gli hanno fatto cambiare i piani Anche questi Dobbiamo capire bene Come si è realizzata i ogre Però ho visto un gran potenziale Loro perché È quello che ci mancava Cioè l'attacco Ok Fantastico Non so quanto cibo abbiamo fatto Potremmo già far così Fantastico Provincia me sta sicuro Dai ci salutiamo qua ragazzi Adesso dobbiamo inseguire con Non con questo che non è lui Con questo esercito Dobbiamo inseguire lui Quindi ci mettiamo In via sotterranea E inseguiamo di là Tu ora giustamente Recuperi il tutto Qua ci sarà Al 100% una rivolta Quindi probabilmente Due ore da muovere di là Ora che ci penso Oh abbiamo la campana Stridente Ottimo Tu non ti puoi più muovere Comunque Siamo messi abbastanza bene Ora abbiamo ancora Tre turni di autonomia Però abbiamo conquistato Una provincia intera Dove Ci sarà da costruire Probabilmente Quindi facciamo così Ci salutiamo qua ragazzi Spero che questo episodio Come sempre vi sia piaciuto Fatemelo sapere voi Con un mi piace Con un commento Abbiamo fatto una vittoria eroica E un assedio Che però non è stato un assedio Adesso I nostri nemici Sono davvero scomparsi Nel senso che c'è solo Questa città Che ovviamente È devastante È una delle migliori Dobbiamo andare a prenderla Perché c'ha l'oro Poi però a quel punto qua Potremmo decidere Di attaccare questi Vediamo un po' Come sono messi Si sono riconquistati Questa città Quindi non sappiamo Come va la loro guerra Continuano a menarsi In questo punto Però se noi Agiamo velocemente Riusciamo con Quick A distruggere Queste due città E da qua Ad agire Sostanzialmente Ci potremmo prendere Tutto quello che Tutti questi territori qua Per noi Dopo di che vediamo Perché vorrei Rentarli in realtà A Karak Degli 8 picchi Perché dobbiamo assolutamente Togliere questo malus qua Del meno 2 Dell'ordine pubblico Però Cioè Le conquiste qua Sono troppo succose E non possiamo aspettare troppo Anche perché andare a Karak Per ora Non è proprio cosa da fare Dobbiamo distruggere tutto questo Karak azul E Questa città qua Temo E se l'hanno presa I pelle verdi È un casino Perché è quella Che ha i soldi Nel senso Voglio attaccare I pelle verdi Ma non subito Quindi dai Per ora ci salutiamo qua Probabilmente distruggo questo Facciamo Questo qui E la campana Nello stesso punto Questo costa di meno Lo possiamo fare già In questo turno Quindi possiamo fare direttamente così Questa qua La distruggiamo Ci da 600 E facciamo la campana Fra 8 turni Possiamo potenziare Questo qua A livello 3 Poi vediamo un po' Ci salutiamo qua Ci vediamo nel prossimo episodio Ragazzi GG a tutti